possiamo mettere la parola fine a tutto questo scetticismo, agnosticismo moderno, perché sperimentalmente con l'osservazione scientifica si può dimostrare che c'è qualcosa che va oltre il corpo, il cervello, sperimentalmente, e questa è la cosa veramente grandiosa, è in questo modo che le scienze empiriche possono anche mettersi a disposizione della filosofia, di una sana filosofia. Attenzione, le neuroscienze non potranno mai misurare l'anima, definire l'anima, ma possono mostrare con indizi molto precisi, chiari ed evidenti che c'è un qualcosa che va oltre il corpo e che noi chiamiamo anima, poi gli deve intervenire la metafisica, la filosofia, ma il passo empirico può essere anche dato dalla neuroscienza, è veramente interessante tutto questo. Cari amici della Scuola di Filosofia di Fornace, prima di iniziare con questo video vorrei fare una piccola premessa al video stesso. È un video al quale tengo particolarmente dal momento che è la prima volta che mi addentro nel campo delle neuroscienze, un campo estremamente complesso, un campo anche affascinante, che affronta quello che è lo studio scientifico del sistema nervoso, del cervello, ma che può anche portare a delle considerazioni, a delle inferenze o conclusioni molto interessanti, tratte da una sana filosofia, a proposito del rapporto della relazione fra la mente e il cervello. Sapete che è un dibattito che si porta avanti da moltissimo tempo. La mente coincide con il cervello? Oppure la mente è un qualcosa che eccede il cervello? Ecco, ovviamente dal punto di vista personale della Scuola di Filosofia di Fornace non c'è alcun dubbio in materia, cioè la mente eccede il cervello, è un'eccedenza rispetto al cervello. Tuttavia bisogna vedere anche come si possano sostenere affermazioni di questo tipo. Ed ecco che lo faremo sulla base di un articolo scientifico, che propongo in traduzione italiana dall'inglese originale, scritto a cura di un neuroscienziato americano, che adesso presenteremo nelle sue linee generali. Se questo video dovesse essere di vostro interesse vi chiedo la cortesia di diffonderlo, anche perché si parla di neuroscienze, mente ed esistenza dell'anima, quindi un campo veramente di un fascino estremo. La domanda di fondo, che è il titolo dell'articolo originale dell'autore del quale adesso dirò il nome, è può il materialismo spiegare l'autocoscienza umana? Domanda fondamentale. L'autore del contributo è il professor Michael Ignor, che è docente di neurochirurgia pediatrica, è dichiaratamente cattolico ed è anche sostenitore della teoria dell'intelligent design, ed è per questo che si è attirato nel corso degli anni non poche critiche. Sapete che la teoria dell'intelligent design, abbiamo parlato molte volte su questo canale, viene definita come pseudoscienza, una teoria pseudoscientifica. Ignor è attualmente attivo presso la State University of New York, precisamente presso Stony Brook, e il contributo intitolato in lingua originale inglese Can Materialism Explain Human Consciousness si trova nel volume di William Dembsky, Casey Laskin e Joseph Holden intitolato The Comprehensive Guide to Science and Faith, pubblicato nel 2021. Chi ha accesso alla lingua inglese è fortemente consigliato di leggere questo volume, veramente interessante, all'interno del quale trova il contributo del professor Ignor, ma anche molti molti altri contributi relativi al rapporto, in questo caso, fra la scienza e la fede. Vale la pena anche evidenziare, prima di cominciare a commentare l'articolo, che ripeto viene tradotto personalmente, cioè dal sottoscritto dall'inglese all'italiano, evidenziare come Ignor sia sostenitore della concezione dualistica, segnatamente di carattere tomistico, del rapporto fra mente e cervello. In altre parole, secondo Ignor, la mente non è concepita come il prodotto di un organo fisico, cioè del corpo, ovvero sia ancora più specificamente del cervello, ma è un'entità che trascende il corpo. Quindi la mente, per così dire, rappresenta un'eccedenza, in inglese si dice un reminder, un residuo, un qualcosa che va al di là rispetto all'organo cerebrale. Per argomentare a favore di questa posizione, Ignor stesso, scienziato, presenta e analizza osservazioni empiriche, esperimenti compiuti nel corso del ventesimo secolo. Quindi attenzione, ripetiamo perché è una premessa molto importante, si parla di osservazioni empiriche, quindi di dati materiali empirici, per parlare della mente, cioè di un qualcosa che eccede il cervello e giustificare come la mente sia un qualcosa che effettivamente eccede il cervello, che quindi richiami anche l'esistenza dell'anima. La neuroscienza moderna, o meglio, bisognerebbe parlare al plurale delle neuroscienze, le neuroscienze moderne vengono condotte secondo una prospettiva materialistica. Ignor dice che i neuroscienze e la maggior parte dei filosofi ritengono come presupposto che la mente sia un prodotto del cervello, che essa quindi non ecceda l'organo cerebrale e che le faconità mentali possano in ultima istanza essere ricondotte alla materia o a interazioni materiali. Dunque, in altre parole, la mente è riconducibile, semplificando al massimo a null'altro che a fisica e chimica. Chiaramente la prospettiva materialistica, dice Ignor, è un presupposto, un postulato, non è un'inferenza salda, fondata, derivante dall'osservazione o giustificata per mezzo di esperimenti e non è neanche giustificata dal punto di vista logico e Ignor cercherà di dimostrarlo nel corso del contributo. Quindi la posizione materialistica è una posizione data per presupposto, è un postulato, un qualcosa di non dimostrato, però dal quale bisogna, tra virgolette, partire nella comunità scientifica anche all'interno del contesto delle neuroscienze, che presenta però dei problemi, se rapportata questa posizione ai dati empirici che provengono dalle osservazioni, dai sperimenti compiuti nel ventesimo secolo, a proposito del funzionamento del sistema nervoso del cervello, ma che non regge neanche dal punto di vista logico. La relazione mente-cervello è la storia della filosofia della mente. L'interpretazione materialistica della relazione mente-cervello è un artefatto della modernità che ebbe inizio nella sua forma attuale durante il XVII secolo, e precisamente con la filosofia di Cartesio. Ma andiamo con ordine. Il materialismo esiste fin dalla notte dei tempi, fin dall'antichità, non dico fin dai tempi di Aristotele e di Socrate, ma addirittura molto prima di Aristotele e di Socrate, ma il materialismo antico era in qualche modo diverso da quello moderno. I materialisti antichi, greci e romani, pensiamo a Leucippo, pensiamo a Democrito, pensiamo a Lucrezio, ad Epicuro, eccetera, ritenevano che l'anima, termine con cui designavano anche se in forma un po' rude, un po' grezza, un po' rosa, diciamo pure come vogliamo, ciò che per noi è la mente, ritenevano che l'anima, dicevamo, fosse un composto di particelle fondamentali chiamate atomi, cioè entità indivisibile. L'atomo, già teorizzato nell'antichità con Leucippo e Democrito, sarebbe, diciamo, la componente materiale ultima della materia stessa. Immaginiamola, non c'entra niente con l'atomo della fisica moderna, però secondo Democrito, gli atomisti, Leucippo, eccetera, i corpi materiali sono formati in ultima istanza da queste entità ultime irriducibili che si assommano, che si aggregano in maniera casuale, dando origine casualmente a mondi, a esseri viventi, eccetera, eccetera, che si chiamano atomi. Atomo, dal greco, deriva dal greco e significa, tradotto alla lettera, il non divisibile e non ulteriormente tagliabile, ciò che non è ulteriormente scendibile. Quindi faccio una spiegazione molto semplice. Io posso prendere un corpo, frammentarlo in parti sempre più piccole, ma questo procedimento non può andare avanti all'infinito, altrimenti, banalmente, a furia di dividere la materia, finirei per farla finire nel nulla, scusate il gioco di parole, quindi dalla materia passerei alla non materia, al nulla. Perciò deve esistere un'entità ultima che non sia a sua volta ulteriormente divisibile, che si chiama appunto atomo. Perciò gli atomisti antichi arrivano all'esistenza dell'atomo non sulla base di osservazioni, ma di un ragionamento filosofico. Se la materia fosse divisibile all'infinito, a furia di dividere la materia, finirei nel nulla. Il materialismo visse il suo declino in Occidente molto prima di Cristo, specialmente grazie al platonismo e all'aristotelismo. Gli autori post-socratici, cioè coloro che vennero dopo Socrate, concepivano già l'anima piuttosto in termini di forma, di idea, idea, platone, forma, poi forma specialmente è un concetto importante in Aristotele, ma anche in San Tommaso. Quindi l'anima è piuttosto un'idea, una forma, piuttosto che qualcosa di composto da particelle materiali. Diverse iterazioni, attenzione, attenzione, non interazioni, iterazioni, cioè ripetizioni di una stessa filosofia che poi entra in dialogo, in dialettica con altre filosofie, diverse iterazioni del platonismo antico e del ilemorfismo aristotelico giunsero poi a dominare la comprensione dell'anima già nei tempi antichi. Allora, platonismo, le idee, ilemorfismo è la teoria secondo la quale i corpi sono composti da una materia e da una forma, ilemorfismo. Quindi abbiamo una materia e una forma che unite compongono un sinnolo che è al fine un corpo come potrebbe essere un ente fisico, come potrebbe essere l'uomo. L'uomo è composto da materia, corpo, ma anche da una forma sostanziale che è l'anima. Lo spiegherà benissimo San Tommaso d'Aquino riprendendo la filosofia di Aristotele, però inserendola in una cornice cristiana. È vero anche che la cristianità ereditò molto dal platonismo, ovviamente affiancando ciò che si poteva raccogliere legittimamente dal platonismo all'interno anche della cornice della rivelazione, nella sua comprensione filosofica dell'anima. E dal XIII secolo fino all'epoca moderna la prospettiva aristotelica di San Tommaso d'Aquino, che ricordiamo vive nel XIII secolo e muore precisamente nel 1274, divenne la concezione cristiana più diffusa e accreditata per la comprensione dell'anima. Si ricorda quindi, si ricorda ancora una volta, è importante anche a costo di essere ripetitivi, ribadire i concetti filosofici, come l'ilemorfismo aristotelico antico concepisse l'uomo, non si parla ancora di persona, persona è un concetto estraneo alla filosofia di Aristotele, come unione, cioè sinolo, di materia, ovvero sia corpo e forma sostanziale anima. Nella psicologia tomistica, cioè San Tommaso che raccoglie lo studio dell'anima, psicologia vuol dire letteralmente lo studio della psiche, psiche in greco è l'anima, quindi San Tommaso riprende la psicologia aristotelica e la inserisce all'interno di una concezione cristiana, l'anima è la forma sostanziale del corpo e le facoltà o potenze della mente, la sensazione, la percezione, l'immaginazione, la memoria, gli appetiti, sono forme sostanziali del corpo, quindi la mente, facoltà della mente, sono forme sostanziali del corpo, sono potenze o facoltà dell'anima. Piante e animali possedono rispettivamente un'anima vegetativa, le piante, e gli animali un'anima vegetativa e sensitiva, che ontologicamente rappresenta un livello superiore all'anima soltanto vegetativa. L'uomo addirittura ontologicamente è di livello ancora superiore agli animali, perché possiede un'anima razionale, che differisce in modo sostanziale dalle anime inferiori, perché l'uomo possiede infatti la capacità di ragionamento e il libro arbitrio, che sono facoltà immateriali. Le facoltà immateriali vengono concepite ovviamente nel cristianesimo come doni spirituali, quell'essere creati a somiglianza immagini di Dio, e l'immaterialità dell'anima razionale rende immortale l'anima umana. Ora, la filosofia moderna del XVII secolo, in particolare con Cartesio come abbiamo detto poc'anzi, ruppe con la comprensione classico-tomistica dell'anima, e nella sua forma, anzi non solo dell'anima, ma dell'antropologia, dell'uomo, e nella sua forma moderna il materialismo risale appunto a Cartesio. Cartesio, ricordiamo, nasce nel 1599, muore nel 1650. Il materialismo, ironia della sorte, anzi, può essere fatto risalire, se vogliamo scendere ancora più nei dettagli, al dualismo sostanziale di Cartesio. Se c'è un autore che assolutamente non voleva eliminare l'esistenza dell'anima era Cartesio, però attenzione che la sua filosofia, con tutte, diciamo, le inferenze, le conclusioni abbastanza insostenibili che conteneva, finisce alla fine per portare a quel lungo percorso che porterà all'eliminazione dell'anima stessa, della res cogitans, ma anche qui andiamo con ordine. Secondo Cartesio, l'uomo è un ente composto da due sostanze totalmente separate, una sostanza pensante, la res cogitans, e una sostanza materiale, la res extensa, cioè la materia, il corpo. Alla prima, cioè alla res cogitans, vengono attribuite tutte le facoltà della mente. Alla seconda, la res extensa, vengono invece attribuite tutte le facoltà del corpo, corpo che peraltro in Cartesio viene concepito come null'altro che una macchina, una macchina biologica. Nella concezione cartesiana, in pratica, in pratica, l'uomo è come uno spettro in una macchina, anzi, l'anima, lo dice Cartesio stesso, è come il timoniere di una nave, è come un fantasma intrappolato in un corpo. Capite che in questo dualismo sostanziale, un po' come quello di Platone, diventa impossibile veramente concepire l'uomo come un ente unitario, ma piuttosto l'uomo è un ente scisso in due, perché a questo punto in Cartesio sorge il gravissimo problema di come giustificare la relazione fra corpo, res extensa, e anima, res cogitans. Come può una sostanza pensante separata legarsi a una sostanza fisica? Fra i due rimane un abisso incolmabile, come in Platone, no? Il corpo è la tomba dell'anima, diceva Platone. L'uomo non è un ente unitario, ma scisso in due. In Cartesio è la stessa cosa. Cartesio cerca, con quell'artificio ad hoc della ghiandola pineale, di dire ma sì, l'anima in fondo è concentrata, lì la possiamo rinvenire in una parte fisica, quindi alla fine il rapporto c'è. Però attenzione, è una soluzione che fa ridere, fa ridere nel senso che comunque tu arrivi a localizzare l'anima in un punto preciso del corpo, che non si sa neanche sulla base di che cosa si possa fare questo, di quale diavolo di studio si possa fare un'affermazione di questo tipo, ma non riesci comunque a spiegare l'interazione, o meglio la relazione, perché interazione è un termine che arriva nel 700, in Cartesio non c'è il termine interazione, fra queste due sostanze. Nel tomismo invece, nel tomismo invece, l'uomo è un ente assolutamente unitario, perché l'unione tra corpo e anima nel tomismo, che sono rispettivamente materia e forma sostanziale, risulta immediata e intima. Cioè quella materia è fatta appositamente per ricevere una certa forma sostanziale, che è l'anima a dare l'uomo. Infatti l'uomo completo nel tomismo, nella concezione cristiana, si ha non con l'anima separata, perché l'anima può esistere separatamente rispetto al corpo, lo spiega benissimo Sant'Omaso, questo non c'è niente da dire, ma l'uomo completo è l'unione di anima più forma sostanziale corpo. Infatti dopo la morte l'anima sopravvive come ente separato, come forma sostanziale separata, ma alla fine dei tempi ci dovrà essere anche la risurrezione dei corpi, il giudizio universale. Quindi di nuovo la riunificazione di forma e materia a dare l'uomo. Con il tempo, con il tempo dopo Cartesio, la sostanza pensante, siccome tanto non poteva interagire col corpo e non si capiva come potesse esserci questa relazione, venne scartata dagli autori successivi come un'entità superflua, un'entità della quale non abbiamo bisogno. Se Laplace nel 7-800 dirà a Napoleone, quando Napoleone gli disse, guardi che lei nel suo libro di astronomia non ha menzionato neanche una volta Dio, e Laplace risponde, sì re, Dio è un'ipotesi della quale non ha avuto bisogno, tra parentesi per spiegare l'universo, ecco che gli autori cartesiani che vengono dopo Cartesio dicono, beh, l'anima, la sostanza pensante, è un'ipotesi della quale non abbiamo bisogno per spiegare l'uomo. La filosofia moderna giunse a concepire l'anima umana in me in termini meramente materiali, cioè nei termini delle sue proprietà non pensanti, proprietà non pensanti che si estendono nello spazio. Così, così, l'antico materialismo, dopo essere tramontato, nel 600 risorge in termini cartesiani. Entro l'inizio del ventesimo secolo i neuroscienziati avevano appreso diverse informazioni sulla postulata, sulla supposta corrispondenza fra cervello e mente, informazioni rese possibili dallo studio scientifico sistematico della relazione appunto fra cervello e mente, e si dava per presupposto nella cornice materialistica appunto che queste due entità coincidessero, che la mente fosse un prodotto del cervello. Serviva allora una teoria coerente della mente, che nell'era moderna doveva essere implicitamente materialistica, come abbiamo visto, e le teorie materialistiche si rifacevano a loro volta al cartesianesimo. I materialisti accoglievano la lettura cartesiana della materia come sostanza estesa nello spazio e tralasciarono del tutto la sostanza pensante. Quando però il materialismo si sbarazzò del fantasma di Cartesio, del fantasma disegnato da Cartesio, cioè la sostanza pensante, espellendola dalla macchina umana, il materialismo moderno escluse però assieme alla sostanza pensante anche il pensiero, cioè la mente stessa. La storia della neuroscienza, commenta Ignor, alla fine della neuroscienza moderna, nell'era moderna, alla fine è implicitamente quella della lotta del materialismo contro il suo stesso autorifiuto. Come si può spiegare la mente mediante la materia non mentale? E vediamo qua diverse ipotesi scientifiche, teorie scientifiche, meglio, che sono state avanzate nel corso del tempo ma poi smentite. Ignor inizia da il comportamentismo, quindi il comportamentismo. Il comportamentismo, o in inglese behaviorism, fu il primo approccio neuroscientifico moderno allo studio della mente. Secondo questa teoria l'unico correlato testabile, quindi verificabile, quindi osservabile e rilevante della mente sarebbe il comportamento. Quindi a partire dal comportamento io studio la mente. Il neuroscienziato comportamentista fu fortemente alleggerito nella sua indagine scientifica. Perché? Perché semplicemente la mente venne qualcosa da ignorare. Qualche comportamentista arrivava persino a negare l'esistenza di tutti gli stati mentali, mentre altri li ammettevano. Però tutti i comportamentisti, dice Ignor, alla fine concordavano nell'ignorare gli stati mentali. Perché il comportamentismo era intrinsecamente materialistico, nel senso che il comportamento dei corpi materiali rappresentava l'unico oggetto della neuroscienza comportamentistica. Un problema di questa posizione era il fatto che una teoria della mente che ignorava la mente non rappresentava affatto un buon punto di partenza. Io voglio studiare la mente ignorando la mente. Come faccio? Un fiorire di scoperte scientifiche positive a metà del ventesimo secolo, non ultimo la fondamentale ricerca del filosofo e linguista statunitense Noam Chomsky su un'unicità del linguaggio umano, dimostrarono la sterilità del progetto della ricerca comportamentistica. Il behaviorismo, o behaviorismo alla italiana, tramontò negli anni sessanta, soprattutto con la nascita della scienza cognitiva, o meglio anche qui bisognerebbe dire al plurale, delle scienze cognitive, scienze cognitive che almeno riconoscevano l'esistenza della mente. Un'altra teoria neuroscientifica moderna fu la teoria dell'identità. La nascita della teoria dell'identità fece declinare il comportamentismo e reintrodusse perlomeno la mente nello studio della mente, nel campo dello studio della mente. È paradossale ma c'era bisogno di reintrodurre la mente nel campo dello studio della mente. Secondo la teoria dell'identità i pensieri, i sentimenti eccetera coinciderebbero con stati cerebrali. In pratica Igner fa un esempio anche abbastanza divertente terra terra. Se qualcuno ha mal di denti il dolore avvertito nei denti è la stessa cosa dello stato fisiologico contestuale dei nervi dentali. L'esperienza di dolore, quindi, è un qualcosa di neurochimico, niente di più. È un approccio riduzionistico, quello della teoria dell'identità, che semplificava anche qui in modo estremo lo studio della mente. Tutto ciò che lo scienziato doveva fare, spiega l'autore, era infatti limitarsi a sviscerare le sostanze chimiche implicate in un processo fisiologico e così si sarebbe spiegata la mente in maniera del tutto gratuita, senza richiamare un reminder, un qualcosa che va al di là del cervello. Il problema della teoria dell'identità, identità dei nostri pensieri con sostanze chimiche, perché questo è in estrema sintesi il cuore della teoria dell'identità, è che viola la legge di Leibniz, un principio logico fondamentale. Secondo la legge di Leibniz, affinché due cose siano veramente identiche, esse devono essere esattamente la stessa cosa sotto tutti i punti di vista, nessuno eccettuato. Non ha dunque senso affermare che cose diverse, anche un po' diverse o diverse per un solo aspetto siano la stessa cosa, perché starei già violando la legge di uguaglianza, di corrispondenza, la legge di Leibniz. Così, affermare che il mio dolore sia identico ai miei neurotrasmettitori è una fallaccia logica, perché il mio dolore e i miei nervi non sono la stessa cosa, possono essere distinti l'uno, il dolore, dagli altri, cioè dai nervi. Nel senso che il mio dolore è qualcosa che duole, che mi fa male, mentre i miei nervi sono corpi filamentosi lunghi. Non sono la stessa cosa del dolore, i corpi filamentosi lunghi che chiamiamo in scienza i nervi. Un chirurgo può vedere i miei nervi, ma non può vedere il mio dolore, non può vedere il mio dolore. Pensieri e sentimenti non sono la stessa cosa di nervi o sostanze chimiche, quindi non sono cose identiche, e perciò anche la teoria dell'identità è errata. Questo almeno, dice Ignor, è oggi generalmente riconosciuto anche dai materialisti. Allora, un'altra teoria avanzata nel ventesimo secolo fu quella del materialismo eliminativista, o detto anche eliminativismo. Questa forma di materialismo riconosce il fatto che la mente non sia spiegabile in termini di materia, che è un riconoscimento ragionevole dato che la materia, per come concepita dai moderni, è essenzialmente la resse extensa di cartesio, cioè la sostanza non pensante estesa nello spazio. Al cospetto dell'inconciliabile contraddizione fra materialismo e mente, i materialisti eliminativisti scelsero di eliminare la mente. Attenzione, Ignor dice, attenzione, non si afferma che la materia sia, che la mente sia irrilevante, come nel comportamentismo, o che coincida con la materia, come nella teoria dell'identità, ma proprio che non esistono menti. È radicale questa posizione. Eliminiamo la mente, non esistono le menti. Ecco la parte eliminativa di questa forma di materialismo, che si chiama proprio materialismo eliminativista. Pensieri e sentimenti non esistono, tutto è materia, tutto proviene da essa. Noi semplicemente commettiamo un errore categoriale quando ci riferiamo alla mente intendendo qualcosa di distinto dalla materia. È un errore comune per questi materialisti a quella che essi definiscono la psicologia popolare, folk psychology, quasi un quacervo di racconti popolari. Quindi, secondo il materialismo eliminativista, noi alla fine siamo robot di carne, che non hanno ancora abbandonato quella bizzarra, quella curiosa illusione per la quale noi, esseri umani, possederemmo una mente che è qualcosa di più della materia. Anzi, possederemmo una mente, punto, perché la mente proprio non c'è, non se ne deve neanche parlare. Il problema gravissimo di questa posizione è che, attenzione al paradosso, se crediamo che il materialismo eliminativista sia vero, se crediamo che il materialismo eliminativista sia vero, allora la fede nel materialismo eliminativista non è una fede e quindi non crediamo al materialismo eliminativista. Perché non ci può essere una fede o una credenza se non c'è una mente, se non ci sono stati mentali, visto che credere che aver fede è comunque anche un atto della mente. Se non ci sono menti come posso avere fede in qualcosa come una posizione scientifica, una teoria scientifica? La fede non c'è proprio, non c'è la mente, non ci sono stati mentali. Qui il problema. Come puoi possedere l'illusione che non esistano menti e proprio in virtù di questo non avere illusioni? Come puoi aver fede che non esistano fedi? Come faccio ad avere fede che non esistano fedi? È come lo scettico che aderisce alla posizione dello scetticismo che dice io non posso conoscere nulla con certezza, ma il fatto di essere certi di non poter conoscere nulla con certezza è già una certezza e quindi ci sono delle posizioni filosofiche che si autocontraddicono. Secondo il materialismo eliminativista un pensiero è uno stato fisico, un determinato concentrato di sostanze chimiche cerebrali o comunque di tutto ciò che noi, i non iniziati, chiamiamo ingenuamente pensiero. Quindi una differenza di opinione fra un materialista eliminativista e un dualista non è in realtà per nulla una differenza di opinione. Sono soltanto due diversi concentrati di sostanze chimiche cerebrali in due calotte craniche diverse. Non è poi chiaro in qual modo due diverse collezioni raccolte di sostanze chimiche in due diverse calotte craniche possano essere in disaccordo. Se non esistono momenti come fa a esistere il disaccordo tra una calotta cranica e un'altra? Il concetto stesso di disaccordo. Infatti anche il concetto di vaghezza, di disaccordo può riferirsi soltanto a pensieri che in ogni caso non esistono, dicono questi materialisti. Ignor dice se non vi viene il mal di testa dopo aver letto tutto questo, vuol dire che non avete veramente capito il materialismo eliminativista. Se un materialista eliminativista chiede un antidolorifico dopo un'operazione ai denti, non è perché come pensiamo noi poveri, ingenui, non voglia il dolore, il dolore non esiste, ma perché per qualche ragione che a noi non è chiara, non vuole quello stato fisico cerebrale di sostanze chimiche che noi plebei chiamiamo dolore. Giunti a questo punto, dice Ignor, all'interno di questa teoria del materialismo eliminativista, potreste sentirvi un po' a disagio. Il materialismo eliminativista, a parte essere un non senso logico, ha un vero e proprio sapore di follia. Se non fosse che il materialista eliminativista vi direbbe che non esiste la follia, ci sono solo sostanze chimiche che noi scioccamente chiamiamo follia. Vi è un senso però, questa è una conclusione piuttosto sarcastica di questo neuroscienziato statunitense, un senso in cui il materialismo eliminativista è un po' più razionale rispetto alle altre teorie materialistiche della mente. Laddove le altre, in un modo o nell'altro, nascondono la loro illogicità, il materialismo eliminativista non presenta alcuna simulazione di logica o di qualcosa che abbia il sapore anche vago di mentale. E l'onestà è una virtù, dice Ignor. Allora un'altra teoria avanzata nel ventesimo secolo per spiegare la relazione mente-cervelo sempre in termini materialistici è quella del funzionalismo computazionale, quindi il funzionalismo computazionale. I materialisti ancora legati alla realtà rifuggono le iterazioni, anche qua non interazioni ma iterazioni, riproposizioni, delle loro ideologie sopra menzionate e in molti casi accolgono il funzionalismo. Il funzionalismo è stato variamente considerato nel tempo come una forma o di materialismo o di dualismo, per Ignor è un dualismo, ed è definibile colloquialmente come la teoria per la quale la mente è ciò che fa il cervello, o ciò che fa il cervello è la mente, la mente è ciò che il cervello fa. Il funzionalismo definisce la mente secondo il ruolo che essa svolge, più che secondo la sostanza della quale è fatta. Quasi tutti i funzionalisti moderni sono funzionalisti computazionali, terminologia con la quale essi stessi intendono di concepire la mente come una specie di computazione, un calcolo, quasi un computer. Una formulazione comune è l'asserzione per la quale la mente sia il software, mentre il cervello l'hardware. La mente gira sul cervello, in altre parole, la mente gira sul cervello, così come un programma gira sul computer. Però per girare questa mente ha bisogno del cervello e senza non può esserci. Sebbene molto diffuso, il funzionalismo computazionale presenta problemi ingestibili. Il cervello può, e lo è stato, dice Ignor, essere descritto utilizzando i termini della computazione. Ma la mente non è una forma di computazione. La critica prominente alla mente come computazione fu già presentata qualche decennio fa dal filosofo statunitense John Schurl, nella sua analogia con la stanza cinese. In questo articolo Ignor dichiara di voler lui stesso elaborare una sua critica, che alla fine è una boss di quella di Schurl. Nel XIX secolo il filosofo tedesco Franz Brentano, 1838-1917, pose un quesito fondamentale. Ignor lo ripete spesso anche nelle sue interviste che trovate su YouTube in lingua inglese. La domanda che si pose Brentano è che cosa vi è di unico negli stati mentali che non si trova mai nella materia? Come possiamo in pratica distinguere un pensiero da un ente fisico? E Brentano rispose l'intenzionalità. L'intenzionalità è un termine tecnico filosofico che significa la circaità. È un elogismo che provo a proporre circaità, cioè la proprietà dell'essere circa qualcosa, del riferirsi a qualcosa. Aboutness in inglese e in tedesco Richtung auf ein objekt, cioè il rivolgersi, il direzionarsi a un oggetto. Richtung auf ein objekt. I fatti intenzionali sono intrinsecamente circa qualcosa, un qualcosa che è altro da essi stessi. Laddove quanto non è intenzionale non è davvero circa qualcosa. Tutti i pensieri sono intenzionali per il fatto che possiedono un oggetto indicato. Io penso circa il pranzo, circa la mia vacanza, circa la misericordia, circa quello che dovrò fare oggi, eccetera. Gli oggetti fisici non sono mai circa qualcosa, a meno che non siamo noi ad attribuire loro artificiosamente, un pensiero, un'intenzionalità. Ma in realtà una roccia sulla costa del mare non è circa nulla. Un albero o una matita non sono circa alcunché. Gli oggetti fisici sono soltanto ciò che sono, punto. L'intenzionalità ha rappresentato un problema per ignore il problema, il problema fondamentale per le teorie materialistiche della mente. Si sono scritti volumi, fiumi di inchiostro sugli sforzi materialistici per spiegare l'intenzionalità della mente quando la mente viene concepita come qualcosa di interamente materiale. Ma tutti hanno fallito, tutti questi lavori per cercare di spiegare l'intenzionalità in termini materialmente, in termini completamente materialistici hanno tutti fallito. Possiamo applicare il problema dell'intenzionalità anche al funzionalismo computazionalista. La computazione è algoritmica, è una mappatura basata su regole da un input verso un output. Tuttavia la mappatura computazionale non è mai intenzionale, cioè non è mai intrinsecamente circa qualcosa. È un processo meccanico che è cieco rispetto a un significato. Ignor fa un esempio. Si considera il programma Word con cui egli ha scritto questo contributo che noi adesso stiamo leggendo e commentando. Il programma, il programma Word, non si cura di ciò che Ignor sta scrivendo. Ignor può scrivere un articolo a favore o contro il materialismo. Il programma del computer è cieco rispetto al significato, non è circa alcunché. E nei fatti, in questo caso, è proprio la mancanza di intenzionalità, la cecità al significato, a rendere la computazione tanto utile. Immaginate se si dovesse comprare un diverso programma di scrittura per ogni diversa opinione sulla quale vogliamo scrivere. Quindi un programma Word per scrivere che sono contro il materialismo, un altro programma Word per scrivere che sono a favore del materialismo. Diverso è il caso della mente. La mente non è una computazione perché la mente è sempre intenzionale, mentre la computazione no. Nei fatti la mente, in questo senso, è l'antitesi della computazione. Tutto quello che la mente è non lo è la computazione. Il funzionalismo computazionale è una teoria negatrice della mente. È ciò che la mente non è. A questo punto, esaminate tutte queste teorie neuroscientifiche del ventesimo secolo, nella seconda parte di questo video vedremo quali siano gli esperimenti e le osservazioni empiriche che possano confermare come la mente sia qualcosa di superiore al cervello, dunque in generale al corpo. Seconda parte del commento all'articolo di Michael Ignor, può il materialismo spiegare la coscienza, o meglio ancora, all'autocoscienza umana? Dualismo e materialismo nelle neuroscienze moderne. Si potrebbe pensare che tutti i problemi logici che abbiamo mostrato a proposito delle teorie materialistiche proposte nella neuroscienza del ventesimo secolo, posizioni veramente che si autocontradicono e che mostrano problemi insolubili, ad un certo punto potessero preservare la scienza del ventunesimo secolo dalla relativa influenza materialistica. Ma così non è, così non è stato. Nel senso, una volta che si è mostrata la fallaccia, la debolezza di una certa posizione filosofica, una volta che se ne siano mostrate le contraddizioni, dovrebbe essere normale abbandonare quel primo paradigma che presenta tanti problemi e optare per un altro paradigma. Ma così non è avvenuto. La maggior parte dei neuroscienziati contemporanei, dice Ignor, opera ancora secondo una prospettiva implicitamente materialistica. Perché? Lui fornisce tre motivazioni. In parte perché non ragionano sulle gravi problematiche implicate. In parte perché il materialismo è il correlato metafisico dello scientismo ateo che infesta la scienza moderna. Purtroppo oggigiorno se uno vuole essere un scienziato moderno, bene o male deve essere uno scienziato materialista. Questo è il problema. Il materialismo, dice benissimo allora Ignor, è il correlato metafisico dello scientismo ateo che infesta la scienza moderna. E in parte ancora perché la pubblica missione di possedere una prospettiva dualistica è percepita correttamente, dice Ignor, ciò avviene correttamente, come un impedimento di carriera nelle neuroscienze. L'autore stesso afferma come poco prima di redigere il contributo, siamo nel 2021, un suo amico, un neuroscienziato di ruolo affermato e peraltro anche un cristiano devoto, gli avesse privatamente confidato che se mai avesse pubblicamente ammesso di essere un dualista e di avere dei dubbi sul materialismo, non avrebbe più goduto di alcun assegno di ricerca. Il materialismo quindi è tuttora l'impalcatura della neuroscienza moderna nel suo complesso per ragioni ideologiche, ma non certo scientifiche o logiche. Nella neuroscienza il materialismo è qualcosa di presupposto, non qualcosa di dimostrato, come abbiamo detto nella prima parte del video. La ragione principale di questo presupposto, al dispetto della logica e dell'evidenza, è che è difficile, si suppone, è difficile testare le teorie materialistiche o dualistiche con rigore non ambiguo. Dunque se non possiamo testare né il materialismo né il dualismo con rigore non ambiguo, rigore empirico in questo caso, allora è chiaro che optiamo per ciò che vediamo e tocchiamo, per la materia. Quindi dobbiamo prediligere piuttosto il materialismo che il dualismo. Dobbiamo prediligere quindi la tesi per la quale la mente sia un prodotto del cervello e lo sia integralmente un prodotto. Senza cervello quindi non esiste la mente, visto che tanto al di là della materia non possiamo andare con l'osservazione, con i dati empirici. Come possiamo sapere sperimentalmente se un pensiero sia qualcosa di materiale o immateriale? Come puoi testare empiricamente questo quesito metafisico? Ebbene, dice Ignor, tutto ciò può essere invece testato entro certi limiti e lo è stato e adesso vedremo come. Ora, esistono nella scienza due tipi di inferenza, escludendo il ragionamento abduttivo o abduzione, l'inferenza deduttiva dal grande al piccolo e l'inferenza induttiva dal piccolo al grande. La scienza naturale nel suo complesso è induttiva perché, come osserva già San Tommaso d'Aquino, la deduzione non può provare l'esistenza di qualcosa, dato che l'essenza, che è la struttura formale di un argomento deduttivo, è assolutamente distinta dall'esistenza. Quindi non posso partire da un concetto per dire allora quel concetto per forza ha un corrispettivo anche nella realtà. No, devo partire dal piccolo, dalla realtà, per poi arrivare al grande. Devo, per esempio, per dimostrare l'esistenza di Dio, muovere dalla natura. Infatti ci sono le cinque vie di San Tommaso. In effetti, in effetti, il fatto di poter concepire qualcosa nel pensiero non implica che quel qualcosa poi esista realmente. Nel mio pensiero, per esempio, io posso combinare l'idea di diversi animali e formarmi l'idea di unicorno, quindi l'essenza di unicorno, ma ciò non garantisce né prova che poi l'unicorno esista veramente nella realtà. Noi non possiamo dedurre la neuroscienza. Noi invece accumuliamo prove, applichiamo schemi esplicativi e verifichiamo quale inferenza meglio si adatti ai dati che abbiamo raccolto e alla logica. Come tutta la scienza, quindi, anche la neuroscienza è induttiva. È un'inferenza alla miglior spiegazione, la famosa best explanation, tratta dalle evidenze. Per poter verificare, testare materialismo e dualismo, abbiamo prima di tutto bisogno di definire materialismo e dualismo, definizioni operative che si possono utilizzare secondo Ignor. Il materialismo implica l'inferenza per la quale il cervello provochi tutti, causi tutti gli aspetti della mente, senza che permanga alcun eccedente, reminder, mentre il dualismo implica l'inferenza per la quale il cervello provochi o causi alcuni aspetti della mente e che permanga però qualcosa di eccedente rispetto al cervello. Entrambe le posizioni concordano sul fatto che il cervello provochi almeno alcuni aspetti della mente, ma l'affermazione materialistica è molto più radicale. Il cervello, secondo il materialismo, provoca o causa tutti gli aspetti della mente, non vi sono pensieri immateriali. L'affermazione dualistica invece è meno radicale. Esistono aspetti della mente che non sono causati dal cervello. Le affermazioni fondamentali di entrambe le posizioni possono essere testate con una certa sicurezza, con un certo rigore, come vedremo. Dunque, le teorie materialistiche e dualistiche si distinguono rispetto alla mente quanto alla eccedenza della mente, a questo immaterial reminder. Esiste o no questo eccedente immateriale? Cioè differiscono sul fatto se tutti gli stati mentali siano provocati interamente da stati cerebrali, o se esistono stati mentali non causati dal cervello e che allora sarebbero immateriali. La prova di riferimento ovviamente non potrà mai essere completa al 100%, perché? Perché dice Ignor, da buon scienziato, vi sono innumerevoli stati mentali che non sono correlati o che non risultano correlati con stati del cervello per il semplice fatto che non sono ancora stati studiati, o forse perché i metodi scientifici utilizzati, forse, non sono stati sufficientemente sensibili. Orbene, tenendo conto di queste premesse, possiamo operare inferenze ragionevoli sul materialismo e sul dualismo basandoci su un concetto essenziale, e sono due se. Primo se. Se tutti gli stati mentali sono causati da stati cerebrali, allora ogni stato mentale può essere evocato stimolando il cervello in qualche modo, ogni stato mentale può essere soppresso asportando, cioè danneggiando il cervello in qualche modo, e infine ogni stato mentale può essere collegato in qualche modo a un determinato stato cerebrare. Il secondo se. Se invece qualche stato mentale non è causato, non è causato, qualche stato mentale, da stati cerebrali, allora proprio questi stati mentali si sottrarranno all'evocazione, all'ablazione e alla correlazione. Le prove della neuroscienza a confronto con il materialismo e il dualismo, le prove della neuroscienza. La maggior parte degli esperimenti fondamentali compiuti nel corso del ventesimo secolo riguardanti la relazione fra mente e cervello può essere suddivisa in tre grandi categorie. Esperimenti o anche osservazioni, se si vuole, però si parla anche proprio di esperimenti. Esperimenti evocativi sono quelli che stimolano il cervello. Esperimenti ablativi o asportativi sono quelli che tacitano il cervello in qualche modo. Esperimenti correlativi che cercano di paragonare gli stati cerebrali a stati mentali. Esperimenti evocativi. Wilder Penfield e le convulsioni intellettive e il libero arbitrio. Lo scienziato canadese Wilder G. Penfield 1891-1976 fu un neurochirurgo e un neuroscienziato di primo ordine che operò a metà del ventesimo secolo. Pioniere del trattamento chirurgico dell'epilessia, mediante la stimolazione e la registrazione di dati a partire dalla superficie del cervello, in pazienti coscienti sottoposti a chirurgia cerebrale. Come posso compiere osservazioni su pazienti coscienti, coscienti, svegli, che vengono sottoposti a chirurgia cerebrale? Quindi provocherò un dolore immenso in questi pazienti se devo tenerli anche desti, svegli? No. Compiere tutto questo, dice Ignor, è stato possibile perché il cervello non esperimenta dolore e lo scalpo può essere anestetizzato con particolari prodotti in modo da rendere indolore la chirurgia cerebrale. Questo tipo di chirurgia viene utilizzato ancora oggi. Penfield era molto interessato alla relazione fra cervello e mente. Iniziò la sua carriera come un materialista e la terminò come un appassionato dualista e basò il suo dualismo, cioè il suo essere passato da una posizione materialistica, cioè da un monismo materialistico, cioè la materia è tutto al dualismo, basò questo suo passaggio soprattutto su alcune osservazioni. Primo, Penfield osservò che non esistono convulsioni intellettive. Le convulsioni sono scariche elettriche sporadiche provenienti dal cervello e che causano diversi sintomi, dalla perdita totale della coscienza alla contorsione profonda di gruppi muscolari, sensazioni sulla pelle, flash luminosi o rumori, odori e anche ricordi o stati emotivi intensi. Penfield documentava queste scariche elettriche dalla superficie del cervello. Notò, appunto, come non si verificassero però mai delle convulsioni intellettive, ossia nella storia della medicina, disse questo scienziato, non si è mai avuta una convulsione che possedesse un contenuto intellettivo o un pensiero astratto. Non esistono convulsioni matematiche, convulsioni con contenuto quindi matematico, logico, filosofico o Shakespeare o letterario, quello che si vuole. Se il cervello è la sorgente delle funzioni intellettive superiori, quindi la capacità per esempio di ragionamento, di avere concetti astratti, come viene ampiamente ritenuto, perché nella storia della medicina non vi è mai stata una convulsione che abbia evocato un pensiero astratto? Questo interessò molto Penfield, il quale ne concluse, giustamente, che il motivo per cui non esistessero convulsioni intellettuali fosse perché il pensiero astratto non si origina dal cervello. Il pensiero astratto è qualcosa che è altro dal cervello, è un più, è un'eccedenza. Ma altra osservazione di Penfield, che lo convince a passare dal materialismo al dualismo, cioè il fatto che la mente allora sia qualcosa che va oltre il cervello. Il libero arbitrio non può essere stimolato stimolando il cervello. Una parte della ricerca di Penfield consisteva nello stimolare il cervello nelle sue aree motorie, cosa che provocava movimenti negli arti dei pazienti durante l'operazione chirurgica. Fu il primo chirurgo a mappare le aree motorie del cervello in questo modo e nel farlo, mentre conduceva proprio quindi i suoi studi empirici, Penfield notava che i pazienti sapevano sempre la differenza fra i movimenti stimolati e i movimenti invece che essi stessi, i pazienti, generavano loro stessi volontariamente, liberamente. Penfield chiedeva ai pazienti di muovere volontariamente i loro arti quando volevano ed egli avrebbe, senza dirlo loro però, stimolato a un certo punto, i loro arti al movimento. Come già detto, i pazienti sapevano sempre la differenza fra movimenti stimolati dal neurochirurgo e movimenti che invece loro stessi pazienti avevano indotto a verificarsi. Penfield non trovò mai nessuna regione del cervello che stimolasse il libro arbitrio. Ne concluse che il libro arbitrio non si trova nel cervello, ma che esso sia invece una facoltà immateriale della mente. Quindi ecco due grandi osservazioni in questi esperimenti evocativi. Non posso evocare il pensiero astratto, non posso evocare una convulsione intellettiva. Quindi la capacità di pensiero astratto, il pensiero astratto è qualcosa che va oltre il cervello. Poi ci sono anche gli esperimenti ablativi, asportativi, cioè che tolgano qualcosa. Roger Sperry e gli esperimenti di divisione del cervello, quindi la callosotomia. Roger Sperry, 1913-1994, era un neurofisiologo statunitense e premio Nobel che operò anche egli verso la metà del ventesimo secolo. Studiò pazienti che erano stati sottoposti a un'operazione drastica chirurgica per il trattamento dell'epilessia. Si sta parlando della callosotomia. In questa operazione chirurgica molto radicale il neurochirurgo taglia l'ampio gruppo di fibre nervose che collega i due emisferi del cervello per impedire la propagazione delle convulsioni attraverso il cervello. Si è dimostrato che tutto questo riduce la gravità delle convulsioni in alcuni pazienti epilettici. Sperry condusse una meticolosa ricerca sulle persone sottoposte a questo intervento e constatò che anche dopo la separazione degli emisferi cerebrali, separazione che lasciava il cervello più o meno diviso a metà, tutti i pazienti risultavano normali per tutti i scoppi ordinari della vita. Per questa sua ricerca che gli valse il premio Nobel, constatò che vi erano tenui anomalie percettive delle quali i pazienti non erano consapevoli e che rivelavano diverse funzioni della metà destra e della metà sinistra del cervello. Quindi furono osservazioni utili a capire alcune diverse funzioni legate ai due emisferi del cervello. Esempio, la facoltà del discorso risultava di norma legata all'emisfero sinistro, mentre il ragionamento spaziale e l'orientamento di norma erano legati all'emisfero destro. Gli esperimenti disperri, dettagliati ed eleganti, svelavano disabilità percettive che non erano evidenti nella vita quotidiana. La cosa più notevole delle sue ricerche, lui stesso lo notò, era quanto poco, quanto poco le menti dei pazienti fossero state modificate dal drastico intervento chirurgico. Le persone il cui cervello era stato scisso, diviso a metà, rimanevano completamente normali nella vita quotidiana. In particolare, rimanevano una stessa unica persona, senza alcuna scissione della coscienza o della personalità. Quindi posso scindere il cervello, ma la persona, la personalità, la coscienza non viene scissa in due. La scissione che spero individua, implicava, come abbiamo già detto, disabilità percettive che erano sì, forse di interesse di studio, ma delle quali i pazienti erano quasi ignari. La più importante inferenza che si possa trarre dalla ricerca di Sperry è che il senso di unità della personalità e la capacità di pensiero astratto risultano completamente impregiudicati dopo la scissione cerebrale a metà. Sperry, anche lui, rigettò il materialismo riduzionistico e nel corso della sua carriera passò da un materialismo comportamentistico a una forma di mentalismo antimeccanicistico e non riduzionista. Ma sempre per la serie degli esperimenti ablattivi, dopo l'esperimento, l'osservazione di Roger Sperry, abbiamo quelle compiute da un altro scienziato, Adrian Owen. Adrian Owen è lo stato vegetativo permanente. Ecco, utilizzo questo termine, mi è capitato di dirlo in diversi video, che non mi piace proprio, cioè non mi piace definire una persona come un vegetale, come viene detto anche nel linguaggio comune. Quindi con questi termini sempre fare attenzione, sempre trattarli con le pinze, mi raccomando. Comunque, il numero di Science, che è una rivista scientifica del settembre 2006, ospitò un articolo a cura del neuroscienziato inglese Adrian Owen, classe 1966, e dei suoi colleghi alla Cambridge University. L'articolo era intitolato Detecting Awareness in the Vegetative State, cioè rilevare la coscienza nello stato vegetativo. Owen si concentrò sul caso di una donna dichiarata in stato vegetativo permanente, condizione caratterizzata da un grave danno cerebrale e da una completa, e di norma si ritiene definitiva, assenza di coscienza e consapevolezza di qualsiasi tipo. Stato vegetativo permanente. Quando si parla di questo, la medicina moderna dice, anzi, i medici, molti medici moderni, che non vi è speranza di ritorno, che la persona non potrà essere cosciente in nessun modo, che non si sente nulla, quando in realtà vi è un grande mistero su che cosa avvenga nella mente di una persona in coma. E inoltre noi da cristiani non dobbiamo mai escludere anche la possibilità di un risveglio straordinario, quindi miracoloso. Ma andiamo avanti con le ricerche di Owen. Si ritiene, si ritiene, che nelle persone in questa condizione non si verifichi alcun processo mentale interiore, quindi il livello più profondo in assoluto di coma. L'esperimento di Owen prevedeva un imaging a risonanza magnetica del cervello, e quindi una MRI, Magnetic Resonance imaging. Questa tecnica misura, nelle regioni cerebrali, il flusso sanguigno che sembra correlato all'attività del cervello. Quando la donna fu introdotta nel macchinario per compiere l'MRI, le fu detto, dallo scienziato osservatore, immagina di giocare a tennis, e ancora immagina di camminare lungo la stanza. Sorprendentemente l'MRI, l'MRI funzionale, mostrò che la donna stava comprendendo ed era anche in grado di collaborare mentalmente, di corrispondere mentalmente a queste richieste. Owen, allora, sorpreso di questo risultato veramente importantissimo, confrontò l'MRI funzionale della donna con quello di alcuni volontari in condizioni normali, e non trovò differenze. Ripetè l'esperimento, perché lo scienziato vuole anche ripetere lo scienziato empirico l'esperimento, ma stavolta, stavolta finché non ci fossero dubbi, presentò le stesse richieste, le stesse parole delle richieste precedenti alla donna, ma combinando le parole in modo casuale, in modo che non avessero alcun senso. Il cervello della donna stavolta, all'MRI, non mostrò alcuna risposta. Owen concluse che, nonostante il grave danno cerebrale e il trovarsi in un coma dichiarato così profondo da non avere alcuna attività mentale, la donna invece era in realtà in grado di pensare astrettamente, di comprendere e rispondere anche a richieste dettagliate. Dai tempi dell'esperimento di Owen, sempre grazie alla tecnologia moderna che veramente qui può essere tanto utile per capire l'uomo, per capire veramente quale grande mistero sia l'uomo. Grazie al MRI funzionale si è mostrato come molti pazienti in stato vegetativo permanente fossero capaci di pensiero astratto complesso. Tutto questo, è la conclusione di queste osservazioni di Owen, rivela una separazione piuttosto marcata tra un danno cerebrale molto grave e i livelli superiori del pensiero astratto. L'interpretazione più parsimoniosa, se vogliamo, la più prudente di questa ricerca è che la capacità di questi pazienti di avere pensiero astratto sia in qualche grado indipendente dal funzionamento del cervello. Se proprio non vogliamo dire per prudenza, per parsimonia, che il pensiero astratto è totalmente indipendente dal cervello, come invece si potrebbe tranquillamente dire, diciamo che almeno il pensiero astratto, prudenza somma, no, per qualche grado è indipendente dal cervello. Ma sempre nella serie degli esperimenti ablattivi ci sono anche le cosiddette esperienze di premorte. Allora, le esperienze di premorte vanno trattate specialmente in ottica cristiana con grandissima prudenza. Io qua le riporto perché sono nell'articolo originale del professor Michael Ignor, di questo neuroscienziato, e anche diciamo così per dovere di cronaca se vogliamo, ma vanno trattate sempre sempre con insomma prudenza, anche perché si tratta di esperienze nelle quali tutti, qualsiasi persona, sentono queste melodie meravigliose, vedono questa luce, ma la dimensione del giudizio, insomma, su ciò che si è compiuto in vita compare assai raramente. Comunque, parliamone, insomma, ricordiamoci massima massima prudenza. Nei tempi moderni, già che prima non lo si poteva fare, nei secoli passati, alcune persone che hanno sofferto un arresto cardiaco e che poi sono state risuscitate, tra virgolette ovviamente, hanno riportato esperienze relative al periodo in cui il loro cuore aveva smesso di battere. Sono esperienze sorprendentemente comuni e si è formata ormai una letteratura medica scientifica su questo tema che è crescente. Sono le cosiddette Near Death Experiences o esperienze di premorte. Un esempio famoso è quello di Pam Reynolds Lowry, 1956-2010, una cantautrice statunitense che nel 1991 fu sottoposta a un'operazione chirurgica pesante per un aneurisma cerebrale. Il suo corpo fu raffreddato e il suo cuore deliberatamente fermato, in modo che gli scienziati, in modo che il chirurgo potesse riparare il pericoloso aneurisma alla base del cervello. La donna, in poche parole, fu clinicamente morta per 30 minuti e fu documentato mediante un elettroencefalogramma come ella non avesse onde cerebrali. Quindi donna clinicamente morta per 30 minuti. Una volta risvegliata, la donna raccontò che quando il suo cuore era stato fermato sentì come un suono canticchiato, quasi una melodia di fondo. Lasciò il suo corpo, fluttuò verso l'alto della stanza, verso il soffitto, e visionò la sua stessa operazione. Raccontò che i suoi scienzi erano notevolmente affinati e dopo l'operazione riportò i dettagli dell'intervento e persino con precisione le conversazioni fra i chirurghi e le caratteristiche degli strumenti utilizzati. Poi la donna vide una luce bellissima e si sentì attratta verso di essa e vide parenti defunti, fra i quali suo zio e sua nonna. Questi parenti le davano il benvenuto in un luogo magnifico, di pace, tranquillo. In seguito le fu detto che sarebbe dovuta rientrare nel suo corpo e lo fece con riluttanza. E la donna, nelle sue interviste e nelle sue dichiarazioni, descrisse questo ritorno al corpo quasi come un salto nell'acqua ghiacciata. Decine di milioni di persone in tutto il mondo dichiarano di aver vissuto esperienze di premorte. Ora, Ignor dice che solo circa il 20% è veritiero e conciò, con questo termine veritiero, ci si riferisce a quelle persone che hanno avuto esperienze che possono essere poi confrontate con fatti dei quali ordinariamente non avrebbero potuto essere a conoscenza, proprio perché in quel momento erano in condizioni di morte clinica. Le esperienze di premorte sono tipicamente esperienze coerenti e chiamate anche iperreali, dissimili dalle allucinazioni o dall'ipossia che possono derivare da eventi fisiologici legati a un cervello che sta morendo per davvero. Peculiarità pressoché universali delle esperienze di premorte sono il potenziamento della coscienza, la limpidezza della conoscenza, anziché il torpore o la confusione che sono caratteristici di un impoverimento cerebrale o dell'ipossia. I neuroscienziati materialisti hanno proposto una pletora di spiegazioni materialistiche per questo fenomeno, spiegazioni che tendono a essere fisiologiche o psicologiche, ma delle quali nessuna veramente convince. I punti deboli di queste spiegazioni materialistiche includono l'incapacità di spiegare l'esperienza di premorte nella sua completezza, l'intenso realismo che si vive, le percezioni e i pensieri vividi, nonché l'effetto che esse producono sul cambiamento di vita della persona che torna alla vita, tra virgolette. Un esempio, le spiegazioni materialistiche dell'esperienza di premorte non riescono a dar conto del fatto che i bambini che li affrontano incontrino parenti che non hanno mai visto e non è possibile che abbiano mai visto in vita, perché sono parenti scomparsi morti prima della loro stessa nascita. Le spiegazioni materialistiche per l'esperienza di premorte non sono plausibili perché semplicemente, dice Ignor, non le spiegano. In conclusione, se non fosse per il pregiudizio materialistico radicato nelle neuroscienze moderne, nessuna spiegazione materialistica dell'esperienza di premorte sarebbe oggi presa sul serio. C'è poi anche una terza categoria di esperimenti e sono gli esperimenti correlativi. E partiamo dalla localizzazione cerebrale e dalla frenologia. Nel corso del XI secolo gli scienziati scoprirono che certe regioni del cervello erano associate con funzioni neurologiche molto specifiche. Un esempio, una piccola regione del lobo frontale sinistro è solitamente associata con la facoltà di parola. Un danno in questa regione compromette il discorso. Le parti posteriori dei lobi frontali di entrambi i lati contengono neuroni che mediano il movimento sul lato opposto del corpo. La disposizione di questi neuroni è molto precisa e lo studio di questi neuroni può portare alla produzione di una mappa del lato opposto del corpo. Regioni corrispondenti nei lobi parietali anteriori vengono associati al senso tattile e la corteccia cerebrale fra i lobi occipitali sul retro del cervello viene correlata alla visione. Vi sono molte regioni assai specifiche nelle parti più profonde del cervello, così come nel tronco encefalico, e che corrispondono a funzioni fisiologiche come la regolazione del battito cardiaco, la respirazione e la secrezione di ormoni. Durante il diciannovesimo e nella prima parte del ventesimo secolo la maggior parte dei neuroscienziati credeva che tutti gli aspetti della funzione mentale, incluse le funzioni superiori del pensiero astratto, tutti gli aspetti della funzione mentale fossero causati da regioni specifiche del cervello. Alla stessa stregua di come erano causate da regioni specifiche del cervello, il discorso, il movimento, discorso intendiamo la facoltà di parlare, il movimento, la sensazione, la visione e le funzioni fisiologiche base. Questa credenza che il pensiero astratto fosse provocato dal cervello alla stessa stregua di tutte queste capacità legate alla materia, conseguiva con naturalezza dalla cornice materialistica per la quale la mente è causata del tutto dal cervello, senza alcuna eccedenza, e questa prospettiva scientifica diede vita allora alla cosiddetta frenologia. Condusse la frenologia al tentativo di correlare le funzioni intellettive superiori, come la capacità astratta di giudizio e la ragione, a specifiche circonvoluzioni del cervello. Le circonvoluzioni del cervello sono le sporgenze curviline situate sulla superficie dei lobi cerebrali e cerebellari. Ecco qua, prendersi il tempo anche per studiare il cervello è un disciplina anche qua, è qualcosa da fare molto molto complesso che richiederebbe tempo, però sarebbe veramente utile. All'epoca, all'epoca della frenologia, i medici non avevano la capacità di visionare il cervello di una persona in vita, d'altro canto non c'era l'MRI, non c'erano i raggi X, eccetera. Tanto che i neuroscienziati si affidavano a una ragionevole inferenza, ragionevole forse per allora inferenza, per la quale la forma del cranio fosse quindi correlata con lo sviluppo del cervello contenuto V. I frenologi tentavano di correlare le funzioni intellettive superiori con la forma della testa, e la frenologia si fece davvero influente a un certo punto, sia in neurologia che in psichiatria, nell'ultima parte dell'Ottocento e nella prima parte del Novecento. Veniva utilizzata estesamente in criminologia, per identificare individui propensi al crimine, e in psichiatria, per evidenziare la predisposizione di certi soggetti a malattie psichiatriche. Eppure, nella prima parte del ventesimo secolo divenne chiaro quanto imprecisa, quanto infondata fosse la frenologia. Il pensiero astratto non era localizzato nel cervello allo stesso modo di come lo erano le altre facoltà della mente, facoltà che la mente dirige, quali il movimento, la sensazione, la visione. E poi la forma della testa e del cranio non forniva alcuno indizio sul temperamento, sul carattere di una persona. Però, dice Ignor, in fondo, in fondo, in fondo, in fondo, non dobbiamo neanche pensare che la frenologia fosse una pseudoscienza. Perché? Fu piuttosto una scienza che cercò una teoria scientifica di utilizzare il ragionamento sistematico e l'esperimento. Solo che le predizioni della frenologia furono poi dimostrate fallaci dall'esperimento, dall'osservazione stessa. Ma erano errate perché errata era la concezione materialistica alla base della frenologia. Se è infatti vero che certe facoltà della mente, come l'abilità di muovere gli arti, di sentire il tatto, di vedere, sono localizzate in regioni specifiche del cervello, è altrettanto vero come non siano localizzabili allo stesso modo, in modo simile, forse anche, possiamo dire, le facoltà intellettive superiori. Sottoposti a questa critica, che proveniva dalle osservazioni scientifiche stesse, dalle osservazioni empiriche, i neuroscienziati dell'epoca avrebbero dovuto fare un mea culpa, mettere in discussione il materialismo sulla base del quale veniva enunciata la frenologia, ma non lo fecero, non lo fecero. Il fallimento della frenologia, quindi, in fondo, è il fallimento del materialismo stesso, della comprensione, tra virgolette, che non c'è, della comprensione materialistica della mente. Sfortunatamente, conclude Ignor, se è vero che la frenologia fu gettata nel bidone della spazzatura della neuroscienza, è altrettanto vero che il materialismo continua ancora oggi a essere l'impalcatura metafisica sulla quale viene elaborata la neuroscienza moderna. Sempre per gli esperimenti correlativi, dopo questi studi di frenologia, siamo a un autore importante che fu, lo commenta Ignor, Benjamin Libet e il non volere libero, o libero non volere, free want, quindi non si parla di free will, cioè libero arbitrio, ma free want, il libero non volere. Vediamo in che senso, perché è interessante. Benjamin Libet, 1916-2007, fu un neurofisiologo attivo a metà del ventesimo secolo ed era affascinato dal tema del cosiddetto tempo della mente, mind time, come lo definiva lui. Studiò la correlazione fra attività elettrica del cervello e contestuale contenuto del pensiero. Condusse esperimenti importanti sulla correlazione fra pensiero e attività cerebrale e quelli più famosi inclusero lo studio del libero arbitrio. Libet chiedeva a volontari normali di partecipare a un esperimento nel quale le onde cerebrali del loro cervello venivano registrate mediante elettrodi posti sulle tempie dei volontari stessi, o anche sulla testa in altre regioni. Ai volontari veniva chiesto di posizionarsi di fronte a uno schermo, uno schermo che mostrava un orologio, e si chiedeva loro di premere un pulsante in qualsiasi momento, quindi avevano a disposizione un tasto, un pulsante, di premere un pulsante in qualsiasi momento avessero deciso liberamente di farlo. L'orologio registrava il momento esatto con una risoluzione al millisecondo in cui essi decidevano di premere il pulsante e permetteva ai soggetti stessi di cronometrare precisamente il momento in cui decidevano liberamente di premere il pulsante. Il tempo della decisione dei volontari poteva essere correlato con precisione con il tempo delle onde cerebrali. Gli esperimenti iniziali di Libet mostrarono qualcosa che all'inizio sembrava smentire il libero arbitrio. Mostrarono infatti, gli esperimenti iniziali, una relazione davvero coerente fra onde cerebrali, decisione volontaria ed esecuzione della decisione di premere il bottone. Lo scienziato trovò che, approssimativamente 400 millisecondi prima che i volontari fossero consapevoli della decisione cosciente di premere il pulsante, si verificava, questo lo testò mediante gli elettrodi, si verificava un picco nell'attività cerebrale che sembrava corrispondere al pensiero che il pulsante sarebbe stato premuto. È rilevante come questo picco nell'attività cerebrale si verificasse sempre prima della decisione cosciente. Gli esperimenti iniziali di Libet, quindi, come dicevamo, sembravano dimostrare che il libero arbitrio non esista. Sembrava che la decisione cosciente dei soggetti volontari di premere il pulsante fosse causata da un'onda cerebrale non cosciente e non voluta, che precedeva la consapevolezza cosciente di quasi mezzo secondo, 400 millisecondi, abbiamo detto. Questo pareva implicare allora che il nostro senso del libero arbitrio fosse sbagliato. Siamo guidati, forzati, a compiere le decisioni da parte di un'attività cerebrale inconsapevole, della quale non siamo coscienti e sulla quale non esercitiamo alcun controllo. Libet, però, comenta Ignor, era uno scienziato molto prudente e meticoloso. Decise di studiare la questione del libero arbitrio ancora più in dettaglio, non si fermò qui. Chiese ai volontari di ripetere gli esperimenti nei quali decidevano di premere il pulsante e osservò il tempo della decisione, ma poi chiese loro anche di rettificare la decisione e quindi di non premere il pulsante. Sorpreso constatò che mentre la decisione di premere il pulsante era invariabilmente preceduta da un picco non cosciente nell'attività cerebrale, la rettifica era elettricamente silente nel cervello. Libet interpretò questo risultato come dimostrazione che il cervello causa sì una corrente stabile di motivazioni non coscienti, e lui le paragonò alle tentazioni, delle quali siamo però liberamente, cioè spiritualmente e materialmente, capaci di rifiuto o accoglimento. Come dire, dal cervello proviene uno stimolo, proviene un input, ma poi sta a noi dare a quegli input la possibilità di sfogarsi oppure di bloccarlo. Notò Libet la grande somiglianza fra le sue scoperte sperimentali erano osservazioni e la concezione cristiana tradizionale della tentazione e del peccato. Ne concluse che siamo assaliti dalle tentazioni non coscienti sulle quali non abbiamo controllo, ma alle quali possiamo dare il permesso o rifiuto di agire liberamente. E in effetti nella vita cristiana è così. Le tentazioni sopraggiungono anche se non le vogliamo, anche se facciamo di tutto per non averle. Le tentazioni vengono comunque indotte in noi, però siamo noi poi ad avere il libro arbitrio di decidere se accettarle oppure no, quindi se rettificarle. Libet concluse che il nostro libro arbitrio è assolutamente reale se lo concepiamo come libero non volere, come free want, cioè come nostra libertà di accettare o rifiutare la tentazione. Bellissimo questo esperimento, ma anche ottime le conclusioni veramente scientifiche e filosoficamente coerenti tratte da questo scienziato, che non si fermò l'apparenza ai primi dati, ma vuole andare oltre. Parliamo infine di Noam Chomsky e la grammatica universale. Gli approfondimenti del linguista Noam Chomsky, autore che abbiamo già citato precedentemente, sono di grande importanza per la nostra comprensione del linguaggio, della mente e del cervello. Negli anni 50 egli propose una teoria rivoluzionaria del linguaggio umano. Prima della sua ricerca i linguisti accoglievano in genere un modello comportamentistico dell'acquisizione del linguaggio umano. In altre parole ritenevano che i bambini apprendessero linguaggio tramite un processo di tentativi ed errori, nonché rinforzo, cioè che i bambini esprimessero parole e frasi senza senso e apprendessero il significato e la grammatica nella loro interezza grazie al rinforzo genitoriale del linguaggio proprio. Chomsky dimostrò però che mentre l'apprendimento infantile del significato delle parole segue questo paradigma, non altrettanto vale per l'acquisizione infantile della grammatica. In pratica Chomsky svelò come il linguaggio umano contenga una grammatica universale presente in tutte le lingue particolari e come la capacità grammaticale sia un tratto connaturale all'uomo, non qualcosa di acquisito dai bambini dopo la nascita mediante tentativi ed errori. In altre parole, le parole specifiche che utilizziamo vengono sì apprese, ma la nostra conoscenza della struttura del linguaggio umano no, è innata. Quindi i principi fondamentali della grammatica sono comuni a tutte le lingue esistenti, essendo essi innati nell'uomo. Gli esseri umani sono nati con una notevole capacità di sintassi che permette al linguaggio umano di riesprimere una varietà infinita di idee. Nelle parole del linguista ottocentesco tedesco Dylan von Humboldt, 1767-1835, che Ignor cita volentieri, la grammatica è ciò che ci permette di compiere un uso infinito di mezzi finiti. Un uso infinito di mezzi finiti. Chomsky dimostrò che gli esseri umani sono nati con un organo del linguaggio, cioè una capacità intrinseca per la grammatica, intrinseca all'uomo, che manca a tutti gli altri animali. La concezione di Chomsky sostiene allora l'inferenza per la quale gli uomini differiscano profondamente dagli animali per la loro capacità di pensieri a stratti illimitati organizzati mediante la grammatica. Gli esseri umani utilizzano la grammatica quindi per fare un uso infinito di mezzi finiti. Chomsky evidenzia che nell'uomo il linguaggio non è primariamente un mezzo di comunicazione, è essenziale per la nostra abilità di pensare come esseri umani, per la nostra capacità di concepire una gamma illimitata di concetti. Il linguaggio è lo strumento con cui gli esseri umani pensano in un modo prettamente umano e, secondo Ignor, è un'impronta della natura immateriale della ragione umana. Dopo le due parti del video, quindi si è parlato di dati empirici, si è parlato di prospettive filosofiche, di osservazioni, a questo punto è giunto il momento, dice Ignor, di trarre delle conclusioni coerenti con quanto affermato. E la conclusione più coerente, dice l'autore, è il successo del dualismo tomistico. Il dualismo tomistico è il materialismo nella neuroscienza moderna. Le ricerche fondamentali compiute nelle neuroscienze nel corso del XX secolo sostengono chiaramente una concezione dualistica della relazione mente-cervello. Il materialismo fallisce, e fallisce da un punto di vista logico, oltre che scientifico e filosofico. Fallisce come impalcatura di riferimento per la comprensione degli esperimenti che abbiamo elencato nella seconda parte del video. Il cervello può essere scisso a metà, osserva Sperry, ma il pensiero astratto e il senso di se stessi non vengono scissi. Il ragionamento astratto non può essere evocato a partire dal cervello tramite stimolazione elettrica o convulsioni, osserva Penfield. I pensieri astratti superiori non sono localizzati in regioni particolari del cervello, come invece sosteneva la tramontata frenologia. Ma il linguaggio è invece un'abilità astratta e connaturale agli esseri umani, come osserva Noam Chomsky. È un grave danno cerebrale e persino la morte, quindi, non asportano, non eliminano la mente. Vedere Owen e anche, con tutta la prudenza del caso lo abbiamo già detto, le esperienze di premorte. Il libro arbitrio può essere dimostrato sperimentalmente, vedere Libet e Penfield. Una sinossi utile dell'interpretazione dualistica della neuroscienza suggerisce a questo punto tre proprietà della mente dimostrate in modo sperimentale. Quindi stiamo parlando di anima, di mente e di dati empirici. Prima conclusione, la mente è metafisicamente semplice, cioè non può essere scissa. Seconda, l'intelletto è immateriale. Terzo, il libro arbitrio è reale e quindi possiamo, per una buona volta, mettere la parola fine davanti ad esempio all'agnosticismo kantiano, che dice che tanto l'anima non si può conoscere, non ci sono prove dell'esistenza di Dio, non possiamo conoscere l'universo nel suo complesso, dice non si può neanche conoscere se esista oppure no l'anima. Possiamo mettere la parola fine a tutto questo scetticismo, agnosticismo moderno, perché sperimentalmente con l'osservazione scientifica si può dimostrare che c'è qualcosa che va oltre il corpo, il cervello, sperimentalmente. E questa è la cosa veramente grandiosa. È in questo modo che le scienze empiriche possono anche mettersi a disposizione della filosofia, di una sana filosofia. Attenzione, le neuroscienze non potranno mai misurare l'anima, definire l'anima, ma possono mostrare con indizi molto precisi, chiari ed evidenti, che c'è un qualcosa che va oltre il corpo e che noi chiamiamo anima. Poi deve intervenire la metafisica, la filosofia. Ma il passo empirico può essere anche dato dalla neuroscienza. È veramente interessante tutto questo. Ci sono diversi tipi di dualismo. Ignor ritiene che il tipo di dualismo più confacente alla logica e ai dati neuroscientifici sia quello tomistico. Il dualismo tomistico è la teoria dell'anima sviluppata da San Tommaso d'Aquino. Essa è aristotelica nella sua cornice generale. L'anima è la forma del corpo e la mente rappresenta diverse facoltà dell'anima. Alcune facoltà della mente sono intimamente legate alla materia, questo è vero. La sensazione, la percezione, l'immaginazione, la memoria, l'emozione sono facoltà della mente, dell'anima, della mente, diciamo, in linguaggio neuroscientifico, intimamente legate alla materia. E questo spiega la dipendenza significativa di molte abilità mentali da funzioni cerebrali. Per alcune attività mentali è vero, effettivamente il cervello è fondamentale. Ma altre facoltà della mente, l'intelletto e la volontà, non sono generate dal cervello, anche se ordinariamente dipendono dal cervello per la loro normale funzione. La nostra capacità di fare matematica, per esempio, è una facoltà immateriale della mente. Ma è chiaro che, se non possiamo vedere, non possiamo sentire, non abbiamo la capacità di rimanere desti, che sono tutte facoltà mentali, però legate alla materia, non è presumibile che acquistiamo o esercitiamo la capacità matematica. Il cervello è necessario e sufficiente per la percezione, l'immaginazione, l'emozione e la memoria. Mentre il cervello è ordinariamente necessario ma non sufficiente, necessario ma non sufficiente, per l'intelletto e la volontà. Le nostre facoltà materiali e i materiali della lavorano in concerto. Il dualismo di stampo tomistico è la pietra angolare della comprensione cristiana dell'anima umana ed è un'impalcatura eccellente per la neuroscienza moderna. È notevole come esso punti naturalmente, dice Ignor, in direzione della natura spirituale dell'anima umana, volontà e ragioni materiali che sono create a immagine di Dio e verso anche l'immortalità dell'anima. L'intelletto e la volontà immateriali non sono distrutti dalla morte, perché la dissoluzione della materia del corpo non dissolve l'anima immateriale, che non è ineluttabilmente legata alla materia, dato che è immateriale. In termini tomistici l'anima umana è sussistente e sopravvive alla morte del corpo. Allora, tecnicamente, piccolo inciso, l'anima è una forma sostanziale sussistente per sé, cioè che non ha bisogno della materia per esistere. La forma sostanziale sussistente può a sua volta essere informante o non informante. Una forma sostanziale sussistente informante è fatta per essere ricevuta in una materia, come per esempio il corpo, e questa materia verrà perfezionata appunto da quella forma, da quell'anima, quell'anima che è fatta per il corpo, ma che può sussistere senza il corpo. Invece una forma sostanziale sussistente non informante è una forma non ricevibile dalla materia, come per esempio quella forma sostanziale che è l'angelo. Uno dice sì, ma nel Genesi gli angeli appaiono ad Abramo come aventi dei corpi, mangiano? No, 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 no. È una forma di materializzazione immaginativa che sfrutta qualche processo per noi misterioso dell'aria, tale per cui i corpi che gli angeli assumono sono del tutto apparenti, così come il loro mangiare davanti ad Abramo, eccetera, ma non sono corpi fisici reali, perché la forma sostanziale che è, forma sostanziale sussistente non informante che è l'angelo, non viene ricevuta in un corpo. L'angelo non viene ricevuto in un corpo, che ne dicano film di Hollywood e altro. L'applicazione del dualismo alla neuroscienza può essere compresa considerando le quattro cause di Aristotele, che ricordiamolo sono materiale, formale, efficiente e finale. Per spiegare la neuroscienza del mio scrivere questo articolo, commenta Ignorz, il mio intelletto è la causa formale, la mia volontà di colpire questo lavoro è la causa finale, il mio cervello, i miei nervi e i miei muscoli sono la causa materiale e la fisiologia del mio sistema nervoso, neurotrasmettitori, potenziali d'azione, eccetera, sono la causa efficiente. La neuroscienza studia ordinariamente la causa materiale e la causa efficiente. La psicologia e l'etica studiano la causa finale e la causa formale. Mentre una teoria materialistica della mente ci costringe a limitare la nostra comprensione alla mera materia, ecco che il dualismo, tomistico, ci permette di comprendere non solo la materia e le sue relazioni, che è importante, stiamo parlando comunque di indagini empiriche, ma anche il pensiero astratto e gli scopi inerenti agli atti umani. Infatti l'uomo non è mica solo materia, non è mica solo agire fisico, è anche pensare uomo. Il dualismo tomistico, quindi, ci permette di studiare tutti gli aspetti della neurobiologia senza negare la realtà della ragione e del libro arbitrio, componenti essenziali dell'essere umano. A differenza del materialismo, questa è la conclusione dell'autore. Ci permette di studiare la natura umana nel suo complesso senza imporre alla neuroscienza teorie materialistiche decadenti e impoverite.